andiamo a riposare giovedì 8 settembre oggi c'è la gita scolastica andrei a tatsumi port island per tre giorni e due notti mattino presto pomeriggio liceo gekoukane in fronte all'ingresso sembra carina no scusami ci ho pensato per via della del come si chiama della divisa della tipa non è la scuola di persona 3 questa vero mi sembra quella di femsì quella beh se anche fosse così non penso che sarebbe nello stesso nello stesso universo insomma e beh certo grazie grazie presidente se una cosa bisogna farla bisogna farla grazie al cazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Se c'ha un'immagine così dettagliata Vuol dire che o è un personaggio comunque ricorrente O visto come stanno andando le cose Secondo me potrebbe diventare una prossima vittima La butto lì Ciao Chihiro E lui si innamora di qualsiasi cosa Cazzo si è innamorato pure Kanji Però sono d'accordo con lui Gli occhiali mi fanno Mamma mia Certo come no Grazie Chihiro Mi chiedo se però sta gita serva effettivamente a qualcosa No sei bellissima tu Sei buona A parte gli occhiali Su quello non posso darle torto Sugli occhiali Siete rimasti solo voi Certo dici Certo Ah non ti preoccupare Stai andando alla grande Ehi Sai che novità Eh dai Sono contento Brava Vai Dille che è stata brava anche lei Kanji o Yosuke dirà No no prosegui pure Qualcosa del genere Certo Certo Ciro Ciao Buona giornata Economia domestica Kanji Mai Lo sapevo Ah beh allora Bello Bella gita Eh esatto Magari l'avete anche pagata sta gita L'avete anche pagata bene Pure In gita dobbiamo rispondere alle domande dei professori che non sono neanche i nostri Ah ma sta andando da solo tu Scusami non ho neanche cagato Benvenuti Piacere di conoscervi Anche se è un incontro è solo un inizio di una separazione L'alfa e l'omega Sono il professore Dogao e vi terrò compagnia in questo periodo Venite tutti dal liceo Yasugami eh Ah la scuola degli 80 dei Come dice il suo nome Quindi Yasuo vuol dire 80 Avevo pensato a una lezione sulla filosofia della Kabbala Ma mi è venuta un'idea migliore Dato che oggi ci vediamo per la prima volta Vi narrerò la storia di un addio Prometto quasi definirla la storia della prima maledizione giapponese Immagino che tutti conosciate gli dei che hanno creato questo paese no? Le due entità che hanno dato vita al Giappone sono il dio Izanagi e la dea Izanami Andavano molto d'accordo Ma un brutto giorno Izanami morì dando la luce Kagutsuchi Il dio del fuoco Con il suo cuore a pezzi Izanagi Partì per il regno dei morti Deciso a riportare con sé Izanami Discese quindi nello iomilo scuro oltre tomba La chiese a Izanami Diventata ormai un abitante della terra delle ombre Di tornare con lui in superficie La dea rispose che avrebbe negoziato con il dio dell'aldilà E chiese a Izanagi di aspettarla Tuttavia Izanagi preso dalla curiosità In Francia la promessa di aspettare Diede fuoco al suo pettine per illuminare il buio Ciò che vide fu la dea Izanami Il suo corpo era ormai decomposto e coperto di terra e vermi Terrorizzati Izanagi fuggì via Ma la furiosa Izanami lo inseguì Evitando i numerosi demoni che aveva alle qualcagna Izanagi raggiunge l'ingresso dal di là Yomotsu Irasaga Piazzò un enorme masso a fare da barriere fra i due mondi E riuscì ad andarsene in denne Quando la dea furibonda raggiunse il masso Lui le disse addio Questa maledizione è conosciuta con il nome di Kotodo Una maledizione che risponde ad un'altra Izanami disse al dio Poiché hai osato trattarmi in questo modo Ucciderò mille uomini ogni giorno del tuo mondo Izanagi accettò con rammarico il fatto che il loro legame fosse definitivamente spezzato E rispose Oh scusami ti ho mandato avanti Allora io accenderò 1500 nuove vite ogni giorno E così ogni giorno migliaia di persone muoiono E decine di migliaia di persone nascono Ecco la maledizione di questo paese Ma forse molti di voi conoscevano già questa storia Per quanto riguarda l'etimologia I nomi Izanagi e Izanami derivano da Izanau Che significa invitare Sarei lieto se accettaste la storia di oggi come un invito alla conoscenza A proposito Dovete sapere che in passato la gente prendeva molto sul serio questa storia Vai però Cose come accendere un solo fuoco di notte Lanciare un pettine Erano considerate tabù Tra l'altro A Amanoiwa La tomba da cui si dice che Izanami si è scesa nell'oltretomba Ancora oggi la gente porta fiori durante le feste dei paesi vicini Anche se è solo un gesto cerimoniale Tutti vogliono che il suo luogo sia bellissimo E beh certo È il loro modo di esprimere rispetto per i sentimenti della dea Ah è il giorno di salutarci Incredibile Devo aver parlato troppo a lungo Vabbè Sono contento Però ovviamente questo fa pensare In qualche modo si è sopravvisato all'interminabile lezione Fa pensare Noi abbiamo Izanagi E Maria ha un pettine Più tardi quella sera di fronte all'albergo Bello l'albergo Sembra Uno di quei Come si chiamano Di quei Lovotel Conchiglia Bella la monnezza messa lì È davvero un albergo normale No Una certa agitazione si arpeggia in tutto il gruppo Ma noi dove siamo scusami A pure di No Ci scherzo ovviamente Certo Durante i suoi turni da hostess No si scherza ovviamente Si sghego Boliardico L'ha detto anche lui L'ha detto lui Ho ripetuto quello che hanno detto Questa ci vuole sfruttare sessualmente Nooo Si scherza Che posto di merda Alquanto Si che devo saperlo Devo saperlo ha ragione Che è Teddy Che cosa èèse Che cosa è importante Eh Oh Yeah D Sonena Dun Ah z Que cosa è Che cosa è Spero Basta che escono da qualsiasi tv Sì ma almeno vestiti normale dai Eh esatto Chi esce con me bello Levatti dal cazzo Sì 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 Ti piacerebbe Brava Rize Con quali soldi che hai finito i soldi per il treno Ci sono le terme o i bagni pubblici qui Beh ti capisco E' un regalo per lei prof E' un souvenir Grazie Quanti entai su questo posto Quanti entai quanti dojinshi Qualcuno lo prende in braccio però Sensei devi prendermi In ogni caso urge una soluzione per Teddy Ma Teddy sta facendo il suo meglio per sembrare un peluche Venire fin qui potrebbe essere stato il suo modo per dimostrare quanto Percepisci una grande fiducia di Teddy Meno male che Teddy sta avanzando da solo tranquillamente Siamo già a rango 5 E' comunque un po' indietro rispetto ad altri personaggi Però sta avanzando da solo come Morgana Quindi va benissimo Battaglia di Teddy si è rafforzata Alterazioni gravi in battaglia Ma dai Non puoi alleggerire la tua costituzione molecolare? Di già salvataggio così noi abbiamo fatto un cazzo Giorno 9 Giorno 2 della gita scolastica Pomeriggio avete visitato Tatsumi Port Island Mentre di sera Centro commerciale Pauvania Club Escopad La musica non è di Persona 3? Oh yeah Ta-na-ta-ta-ta-ta-ta-ta Baby baby Forse ci assomiglia però eh Forse non è quella ma ci assomiglia Ma dai E tu invece? Beh te l'ha anche detto Dai resta con noi Siamo in gita Beh per lo stesso modo in cui una delle tue tessi da fare l'idol Io sono risetto Posso fare quello che voglio Ecco appunto Dai Ah Quindi è questo che facciamo Risa ha fatto riservare il secondo piano blindato Nana Esatto Scusa un attimo Uno show segreto Che tipo di show scusami Adesso hai 16 anni Quindi ne avevi 14 Se non addirittura 13 Se non avevi già fatto il compleanno Che cazzo di show segreto ti hanno fatto fare scusami Ah pure Scusa un attimo Scusa un attimo Scusa un attimo Scusa un attimo Una cangettura Che faccia Eh Che faccio Questa Che faccio Che faccio Che faccio Ma come? Ma piccolina Ma poverina La parola del re Si pesca attorno un bastoncino e chi c'ha quello rosso è il re E adesso si sfoglie Ma che faccia poverina Quale bastoncino vuoi estrarre? Il più lontano Ha estratto un bastoncino Ah il numero uno In teoria sono il re? No forse sono solo il numero uno Oh no Eccoci numero uno Eccoci numero uno Ma come? Ma come? La posta in gioco è alta Quale bastoncino vuoi estrarre? Il tempo è più lontano Continuamente Ha estratto un bastoncino C'è il segno rosso Sei il prossimo re Re Eccomi Eccolo 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 Pure Pure Eh bella domanda Tutti ti stanno fissando Cosa ordinerai? Il numero due sul mio grembo Se è come penso Ho ragione Lo sapevo Yes Sì Lo sapevo che avevo ragione Sì Sta morendo dalla vergogna Ah, interessante Naoto-kun Così sul naso, direttamente Ovviamente Stava attendendo questo Certo Stavi aspettando questo momento Lo sappiamo tutti Stava a lavorare sempre in un'esplosione E' stato un'esplosione A presto Stava a lavorare Non c'è un'esplosione Non c'è un'esplosione Per il nostro corso Non c'è un'esplosione Per questo C'è un'esplosione bravo Sì, è molto difficile. Eh? È tutto? È tutto? Non, ma che si è stato aspettato... È un po' di risposta! Naoto, è un po' di risposta! Non so, non so. È un po' di risposta. È un po' di risposta. Ha, è un po' di risposta. Ha, è un po' di risposta. Ha, è un po' di risposta. Lo sapevo. Che era questa la domanda. Purtroppo no. Persona! Ecco, ora si è addormenta. Naaah, muuuu! Conoiopparai combi... Anasuki ga naiのはわかりました. Daitai... Nani ni sonna iopparattelunneska? Core... O sake ja nai desu... Che faccia, eh? Maata, maata! Kita toki ni kakunin shitan desu. Inshuuntene no kougi de... Koko wa kyonen kara alkohol o asukatte massen. Eh? E? Mienna shite... Bayoui? Ehi! 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 E come lo spieghi più che altro? Nonno! Ehi! 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 Kuba wa maa... Ehi! 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 Nodiamu koui! Oh no Molto peggio Di solito siamo abbastanza normali Ma ancora Ma non è che facciamo niente Sabato 10 A mezzogiorno si rientra Giorno 3 della gita scolastica Area commerciale di fronte alla stazione Agakure Ramen Ma c'è la stessa musica di Della signora di sera Chi non ha fame Ah Yukiko Oh no Hai spifferato tutto Madonna mia che fame La droga Chi è questo Tante non sono più risette Esatto Vabbè allora Ma dai Questo orso del cavolo Ma dai Ma dai No Non è solo me Non è solo me Non è solo me Tanto ne sta preparando un'altra Madonna mia che voglia di ramen Compriamo una maglietta Iwatadoti Un mochi Iwatatoti Una lanterna Una lanterna dai Almeno gli rimane Perché il mochi Se lo mangia La maglietta Poi un giorno cresce Non la mette più Che è successo Si è bloccato Non dire queste cose Ad altavoce Che c'è una persona Due persone Tre persone Che non dovrebbero sentire Oh no Rotola Ma c'è ancora il cibo Ma state lasciando lì tutto il cibo Io l'ho detto Non ci sono stati così tanti momenti Che mi hanno fatto ridere così tanto In Persona 5 Persona 5 l'ho adorato Ma non ci sono stati così tanti momenti Come questi Oni-chan Ok rinassai È stato fantastico Abbastanza la prossima volta Accompagnami Che fanno Nanako parla con allegria Mi ricordi aver acquistato un souvenir Per Nanako Ma c'è scritto Junes Ma è un sacchetto del Junes Ma scusami Aprilo Voglio vedere cos'è Voglio vedere cos'è la lanterna Apprezzare molto la lanterna In che senso In che senso È stato divertente È stato divertente comunque Ero insieme ai miei amici Esatto Certo E io sono abbastanza maturo E io sono abbastanza maturo Già me ne sono accorto È vero Dojima ha uno sguardo gentile Ma in realtà no La mia roba cosa La mia roba cosa Nanako Che meraviglia Non credo ai miei occhi Ovviamente Probabilmente saranno di nuovo Le caramelle merdose Una trota di naba Per quattro Tonno fresco E bello ciccio Più ghiaccio secco Beh la trota di naba Ci serve E molto probabilmente Quegli artigli Verranno sostituiti Poco dopo Da un altro oggetto Più avanti Quindi io Mi butto sulla trota Sarà anche una scelta stupida In teoria forse Sarebbe meglio questo Ma voglio rischiarmela Anche perché Devo pescarla Trota di naba Dovevo pescarla Per l'artigiano Lì Sì forse era meglio Allora Non mi avesse dato questa scelta Avrei sicuramente Preso gli artigli Ed ecco il grano Per il momento Non vorrei piantare nulla Ah no Ci abbiamo le melanzane Perfetto Volevo comprare Dalla signora Altre verdure Però se abbiamo le melanzane Va bene I mulinciane Come dicono le mie Parti Ciao Nanako Io esco Signora C'è qualche piantina nuova Che ha fatto la gente oggi Che cazzo è Isano Deve essere Uno dei confident Che ancora non ho trovato Allora C'è C e Motorino Belle lei Con quelle cosciettine C'è la nostra Amatissima Marie Che ormai Abbiamo maxato C'è Rize Che sarebbe comodo Da maxare Nuovi libri Metà macio Metà dio Coraggio E Potenziare gli effetti Della cucina cinese Uuuuh Con lettura rapida Questo è utile Vediamo chi altro c'è però Prima C'è anche kanji La vecchia Oh Confident nuovo Aspetta Per la morte Io avevo Samael Devo andarlo a riprendere Vero Devo dare da mangiare al gatto Miau Tieniti un altro salmone Miau Allegramente Sembra molto rilassato Dovresti tornare Dagli da mangiare Guarda Io ormai Non sono neanche più sicuro Che quella missione Abbia una fine Ma va bene così Stellina Entriamo dentro assieme Con La morte Eccola qui Abbiamo Samael Matador Potrei fare matador Potrei craftare matador Per l'averlo Con Con quello che chiedeva lei Mahama Eccola qui Però 15.000 Mahama Amatador Ecco te Ovviamente Sono persone che non Riutilizzerò Probabilmente mai più Quindi le sovrascrivo Benvenuto nella stanza di velluto Ecco appunto Ah Matador E possiede Mahama Hai completato con successo La richiesta Che splendida persona Quella danza affascinante Eseguita da un autentico sportivo Sono stupefatta Sei ancora giovane Ma la tua anima Ha già raggiunto Discrete vette di mascolinità Sento il cuore battermi più forte Occhio che quella potrebbe saltarti alla gola Grazie Sono fermamente convinta Che sei la persona Che stavo cercando Voglio sondare meglio la tua anima Basta che non sondi nient'altro Per favore Vuoi sondare la mia anima Ma non il mio animo Oh Cristo L'affinità a livello 3 Imperatrice migliorato Bene Per la prossima richiesta Portami G'don Dotato dell'attacco furioso Se qualcuno può farlo Quello sei tu Attendo con ansia il tuo ritorno Ma quindi niente bonus A questo giro Che sfiga G'don Che in teoria Ci abbiamo Quindi matador Lo registriamo Che così in new game plus Ce l'abbiamo già G'don Con Attacco furioso 12.000 yen Va bene Vediamo se C'ho ragione Sì ci perdo probabilmente Una giornata Ad andare con la vecchia Ma mi serve avere tutti i confidanti del gioco Tra l'altro devo parlare anche col fratello di Saki Senpai Signora Eh Oh per caso sei Il custodio dell'ospedale Sì Cielo Non pensavo di trovarti qui È una splendida giornata Ti prenderesti il tempo di parlare con una vecchia signora Certo Ma Oh che gioia L'anziana sorride dolcemente Conne ci va Conne ci va Ti sei presentato Star Phoenix Star Chan Giusto Che nome adorabile Ti si addice Vivo qui da sempre Ma Non ti conosco Mi sono appena trasferito Cielo Ma davvero Venendo dalla città Questo posto Ti sembra scomodo Ma è una bella cittadina Lo penso anche io Mi fa piacere È bello sentire parlare bene Della propria casa Oh cielo Chiedo scusa Non mi sono presentata Mi chiamo Isano Kuroda Era Isano Il nome che abbia letto prima A questo punto potrebbe essere Sinigami Ecco Sono la morte La morte Perdonami Dico cose insensate Star Chan Non ti sei ancora ambientato in città Vero Ma va Sto benissimo Se sei in difficoltà Posso darci qualche consiglio Anche se immagino che tu preferisca Le ragazze più giovani Sembra un'anziana molto gentile Anche se dice di essere la morte Hai fatto conoscente con Isano Kuroda Beh ci ho azzeccato no Era facile da intuire Bella la morte Oddio Suona malissimo quello che ho detto Chissà che Che tipo di carta è Nella pescata Della mano arcana Magari ti fa perdere Tutte le carte Per dire Potrebbe essere Spero che ci incontreremo ancora Arrivederci Hai salutato Isano E sei tornato a casa Ciao Isano Oh Bentornato Sono andato a fare compre Il frigo è pieno di cose da mangiare Non è pronto a rafforzarsi Beh ci manca solo Solo un punto Ce l'abbiamo al massimo Sarebbe un altro confident Maxato al massimo Andiamo alla cassetta delle lettere E spediamo I due set di sticker premio Puntiamo sempre Alla combo rara Che si sa mai Ah forse ne puoi mandare solo Un giro alla volta Forza Noi tre Piantine Su Prima salviamo Nove giorni eh Vai Lavori all'orto Oggi ti aiuto Voglio vedere le verdurine Dovrei leggere anche il libro Quello delle piante Che così Le abbiamo prima Giorno 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 Grazie per la visione!